al di là del legame che poi diciamo di politica sportiva tra tutti quelli che vivono certe esperienze forse una Paralimpieda insieme abbiamo fatto abbiamo recuperato da un organismo internazionale la medaglia d'oro di Londra che hanno rubato l'Oscar io ce l'ho appunto lui sì, questa volta gliela metto io grazie